Un prestigioso riconoscimento è stato attribuito al sulmonese Luigi Carrozza per i suoi 35 anni di serie operosità nel mondo del giornalismo. Si tratta di un encomio di notevole importanza che il presidente dell'Ordine dei giornalisti d'Abruzzo, Stefano Pallotta, gli ha attribuito nella sede dell'Aquila. Nella sua lunghissima carriera di giornalista pubblicista, Luigi Carrozza ha collaborato con il quotidiano Il Messaggero dal 1966 fino al 2014. L'esperienza nel mondo della carta stampata è stata acquisita per tanti anni come inviato proprio del quotidiano della Capitale e per la collaborazione con il Corriere dello Sport, il Corriere Adriatico, il settimanale Sette Giorni Sette e con numerosissime riviste di atletica leggera. A lui è legata anche la realizzazione del periodico locale Fuori Gioco, un giornale sportivo che negli anni settanta aveva una tiratura di 5.000 copie che venivano distribuite gratuitamente in tutto il territorio peligno e marsicano, oltre ad essere spedito agli italiani residenti all'estero. Si tratta, ha commentato Carrozza, di un riconoscimento che arricchisce ancor di più la mia lunga esperienza nel mondo di quel giornalismo che ho sempre amato e rispettato per oltre 50 anni.